Il primo testo che leggeremo è di Johan Joachim Winkelmann, mi raccomando no Winkelmann all'inglese ma Winkelmann perché è tedesco, nato a Stendhal nel 1717 e morto in una locanda di Trieste nel 1768 per cause che ci sono ignote. Lui era un appassionato cultore dell'arte italiana, si trovava in Italia, ricordatevi una cosa importante, in Italia nel 1700, a metà del 1700 vennero ritrovati i resti di Ercolano e Pompei che furono molto importanti per definire poi che cosa fu il neoclassicismo. Winkelmann tra l'altro era uno dei primi, se non il primo grande storico dell'arte dopo Vasari nel 1500 ed è stato uno degli scrittori che più di tutti si sono avvicinati a quella che la critica ha definito neoclassicismo. E' un po' il teorizzatore del neoclassicismo che chiaramente lui non sapeva di appartenere al neoclassicismo, ve l'ho già spiegato questo, ok? L'hanno definito dopo così e andremo a vedere quali sono nel dettaglio letterario queste novità del neoclassicismo, grazie a questo testo. Allora, il passo è una descrizione della statua dell'Apollo del Belvedere, lui sta descrivendo quindi la statua dell'Apollo del Belvedere nei musei vaticani di cui poi vi invierò un'immagine così lo vedrete anche voi. E' una statua che è stata fatta, a parte che avete l'immagine sul libro, a pagina 546, comunque è una copia del 130-140 d.C., quindi siamo nel secondo secolo, di un originale greco che doveva risalire invece al IV secolo a.C. e che l'originale era stato fatto in bronzo, questo invece era un calco in marmo, che è quello che ci è rimasto a noi ed è possibile osservare ai musei vaticani di Roma, che è del secondo secolo, quindi di pieno impero, pieno no, però pieno impero romano, diciamo, durante l'imperio romano. La statua di Apollo rappresenta il più alto ideale artistico fra tutte le opere dell'antichità sfuggite alla distruzione. L'artista ha creato questa opera assolutamente secondo l'ideale, servendosi della materia solo per quel tanto che gli era necessario a realizzare e rendere visibile il suo proposito. Quindi di tutte le opere rimasteci dell'antichità, la statua di Apollo è la più bella, quella che rappresenta meglio l'ideale artistico. E l'artista ha creato quest'opera seguendo proprio un ideale di bellezza. La materia, vi dice, cioè ciò di cui si è servito poi per comporre questa idea, è servita solo quel tanto che bastava per realizzare il proposito ideale, il marmo. Però la bellezza era ideale, la materia avviene dopo, secondo Winkelmann. Questa statua di Apollo supera tutte le altre immagini del dio di tanto, di quanto l'Apollo di Omero si leva al di sopra di quelle descrittosi dai poeti venuti dopo di lui. C'è un paragone quindi tra l'autore della statua di Apollo che ha superato tutte le altre rappresentazioni del dio di Apollo come ha fatto Omero nell'Iliade e nell'Iliade ha superato tutti gli altri scrittori che hanno provato a parlare di Apollo. Il suo corpo si eleva al di sopra di quello umano e la sua posa rivela la grandezza che lo pervade. Una primavera perenne come nel beato Elisio riveste di amabile giovinezza la sua matura, affascinante virilità e aleggia con grazia delicata sulla superba struttura delle sue membra. Quindi l'Elysio è la primavera, quindi sta descrivendo fisicamente questa statua bellissima, rivestibile di amabile giovinezza, rivestita da una primavera, da un'aria di primavera eterna, perenne. Come capita nel beato Elisio che è l'aldilà e greco. I greci credevano nell'aldilà non chiaramente cristiano ma in un aldilà che fosse costantemente verde, ci fosse costantemente una primavera. Però nello stesso tempo, oltre ad essere così bello, è anche una bellezza superba, quindi anche che denota una notevole virilità. Penetra con il tuo spirito nel regno delle bellezze incorporee e cerca di farti creatore di una natura celeste, perché il tuo spirito possa inebriarsi di bellezze superiori alla natura umana. La, o lettore, nulla vi è che sia mortale o schiavo dei bisogni umani. Non una vena, non un nervo eccitano ed agitano questo corpo, ma uno spirito celestiale che si riversa come un fiume tranquillo, quasi ricolma tutta la superficie di questa figura. Quindi è proprio una bellezza ideale, una bellezza che vive di poca materia e tantissimo spirito. E per comprenderla, il lettore che cosa deve fare? Deve penetrare con il suo spirito nel regno delle bellezze incorporee, delle bellezze che non hanno corpo, soltanto ideali. E cercare, il lettore deve cercare, di farsi creatore di una natura celeste. Solo in questo modo puoi comprendere la bellezza della statua che hai di fronte. La statua è una rappresentazione di Apollo che ha appena ucciso Pitone. Pitone era un gigantesco, nella mitologia greca con la P maiuscola, era un serpente gigantesco che stava portando distruzione in una regione della Grecia che si chiamava Foscide. E Apollo intervenne e uccise Pitone con una frecciata. La statua rappresenta il momento in cui Apollo ha appena sconfitto Pitone. Questo è importante saperlo come premessa. Egli ha inseguito Pitone contro il quale per primo ha atteso l'arco ed ora con il passo potente l'ha raggiunto ed ucciso. Quindi sta descrivendo il momento in cui viene colta l'espressione e la postura del Dio Apollo. Dall'alto del suo spirito soddisfatto il suo sguardo va al di là e al di sopra della sua vittoria, verso l'infinito. Sta descrivendo lo sguardo che riflette il suo spirito che tende verso l'infinito, al di sopra della vittoria. Disprezzo vè sulle sue labbra e l'ira che egli trattiene tende le sue narisci e sale fino alla fronte altera. Ma qui la pace che vi aleggia beata e quieta non ne viene turbata e il suo sguardo è colmo di dolcezza, come tra le muse che si protendono per avvolgerlo nel loro abbraccio. Quindi sta descrivendo questa figura, questo Apollo, che ha qualche accenno d'ira nell'espressione, nella bocca, ha questo sguardo ancora pieno di disprezzo, però nello stesso tempo c'è un equilibrio perfetto nella struttura e nella mimica facciale di Apollo, perché in realtà mostra un po' di disprezzo e un po' di ira con la postura delle labbra e della bocca, però allo stesso tempo c'è una pace beata e quieta che non viene turbata. Il suo sguardo è dolce, nonostante sia proteso verso l'infinito, abbiamo detto. Quindi questo si ricollega al neoclassicismo in maniera molto netta, perché c'è questo limitare le passioni troppo turbolente nella ricerca di un ideale e perfetto equilibrio che deve trattenere l'ira, in questo caso, di un dio che ha appena sconfitto il suo nemico, quindi a rigor di logica dovrebbe dimostrare irosità, superbia e rabbia e fatica, e invece l'espressione facciale, la mimica facciale di Apollo è perfettamente equilibrata e perfettamente bella, tra l'altro. In tutte le altre immagini del padre degli dèi, quindi di Zeus, che ci rimangono e che l'arte onora, non si accosta a quella grandezza con la quale si svelò alla mente del divino poeta Omero e che riappare qui nel volto del figlio, mentre i singoli attributi di bellezza degli altri dèi si fondano qui in armonia come in Pandora. Questa è una metafora perché Pandora è la prima donna, secondo la mitologia greca, è la prima donna a essere stata creata e tutti gli dèi, secondo la tradizione, secondo il mito, gli donarono un sacco di migliori qualità che si potessero mai avere. Quindi è una metafora per dire che non ci fu mai una statua così bella come questa di Apollo e che aveva tutti gli attributi di bellezza perfettamente inseriti in armonia come gli dèi avevano fatto con Pandora. Quindi armonia è un'altra parola chiave nella ricerca. La bellezza è armonia, è equilibrio di tanti attributi, chiaramente. Tutti belli che devono essere in armonia tra di loro. La sua morbida chioma, mossa da uno zeffiro delicato, zeffiro è un vento, come i tralci dell'uva nobile si attorcigliano delicati e flessibili, gioca attorno a questa testa divina e sembra cosparsa nel balsamo degli dèi e legata sul capo dalle grazie con amabile eleganza. Sta descrivendo quindi i riccioli di Apollo con due metafore, anzi con una metafora, che sembrano mossi da uno zeffiro, da un venticello delicatissimo e sono paragonati ai tralci dell'uva, i riccioli che hai nella testa. Al cospetto di questa meravigliosa opera d'arte, dimentico ogni altra cosa e mi elevo al di sopra di me stesso per contemplarla come le si conviene. Quindi adesso sta parlando di lui, Winkelmann, delle reazioni che questa statua suscita. Il mio petto sembra tendersi e sollevarsi di venerazione come quello che vedo tendersi ricolmo dello spirito di Vaticinio e mi sento come trasportato a Delo e nei sacri boschetti dell'Alicia in quei luoghi che Apollo rendeva sacri con la sua presenza. Perché questa mia immagine sembra ricevere vita e movimento come la bellezza di Pigmalione. Come è mai possibile ritrarla e descriverla? Quindi al cospetto di questa statua lui si dimentica di ogni altra cosa. Si eleva il suo spirito addirittura al di sopra di se stesso ha bisogno di farlo se la vuole contemplare veramente questa bellezza perfetta. Il mio petto addirittura sembra tendersi e sollevarsi per venerare una bellezza così assoluta, perfetta, armoniosa, equilibrata, contenuta. E si sente, guardando questa statua, si sente quasi nelle terre della Grecia che erano sacre ad Apollo e dove Apollo, secondo la mitologia greca, era solito passeggiare, stare, ovvero si sente trasportato a Delo o nei sacri boschi dell'Alicia, in quei luoghi dove Apollo rendeva sacra, quei luoghi resi sacri dalla presenza di Apollo. Questa mia immagine sembra ricevere vita e movimento come la bellezza di Pigmalione. Pigmalione è un altro mito greco, è un artista, un altro scultore, che si innamora della statua da lui stesso scolpita. Cioè il classico esempio di artista che si innamora della propria opera d'arte. Lui scolpì una donna e se ne innamorò perdutamente. E allora, secondo la mitologia, pregò la dea Afrodite in tutti i modi di dare vita alla statua, in modo che si potesse poi innamorare di una persona reale. E questo successe, e poi il mito continua. Però è importante perché chiaramente si ricollega alle sensazioni che sta provando in questo momento Winkelmann, no? E come è possibile descrivere una bellezza così perfetta e visto che mi sento come Pigmalione di fronte alla sua statua, quasi innamorato di fronte a una bellezza del genere. L'arte stessa dovrebbe darmi consiglio per... È impossibile descrivere a parole questo tipo di bellezza, no? L'arte stessa dovrebbe darmi consiglio e guidarmi la mano per portare a compimento di qui in poi i primi tratti che ora ho bozzato. Dovrebbe essere l'arte stessa, non le parole, a ricreare una bellezza del genere, perché a parole io non riesco a descriverla. L'idea che ho dato di questa immagine io la depongo ora ai suoi piedi, come le corone di coloro che non potevano raggiungere le teste degli dèi che volevano incoronare. L'idea che io ho cercato di trasmettere di questa statua la depongo ai suoi piedi, ai piedi della statua, come facevano anticamente gli antichi greci che ponevano le corone dall'oro di fronte alle statue degli dèi perché non riuscivano a metterglielo sulla testa. Quindi questo vuol dire che non riesce a parole a descrivere la bellezza della statua. Quindi l'unica cosa che posso fare è mettere e inserire questa immagine ai piedi della statua e come perché non riesco a raggiungere la testa. Quindi sta dicendo questo, che come i greci non riuscivano a raggiungere la testa delle dèi che adoravano, lui con le parole non riesce a esprimere tutta la bellezza della statua. Quindi perché questo testo si collega al neoclassicismo di cui abbiamo già parlato prima? Ricordatevi sempre il discorso di deduzione, cioè noi dovremmo prima leggere i testi e poi capire che cos'è il neoclassicismo. Un critico fa così, prima legge tutti i testi e capisce che si rifà a una corrente letteraria particolare che è il neoclassicismo. A scuola, quest'anno, però in generale io preferirei lavorare in maniera diversa, diciamo che per facilità si lavora così, cioè prima vi do la teoria e poi si passa al testo. Però non vi scordate che la teoria non esisterebbe se non ci fosse la parte testuale. Ok, perché quindi questo testo si rifà a ciò che vi ho detto del neoclassico? Perché chiaramente si sta parlando di una bellezza ideale. il bello ideale, una bellezza assoluta che tra l'altro è greca. Quindi la statua greca è manifestazione sensibile del bello ideale. E la realtà... Poi vi ho detto, quindi questo è la prima cosa, la bellezza greca, bellezza ideale. Poi il fatto che le passioni sono nascoste, si devono limitare, non mostrare troppo, non esibire. La bellezza deve essere equilibrata, armoniosa, altrimenti non è più bellezza. Quindi anche il sentimento e la passione deve essere frenato da questo equilibrio, altrimenti non c'è più l'ideale l'ideale della bellezza. E poi un altro motivo che si ricollega al romanticismo questo e che è visibile soprattutto nella parte in cui Winckelmann parla delle sue reazioni, delle emozioni che prova nel vedere quella statua, si capisce che ha una sorta di venerazione nei confronti della classicità. non è soltanto una forma di stima, di piacevolezza. C'è qualcosa di più, qualcosa di mistico che si nasconde dietro a questa sua passione nei confronti della statua ma in generale dell'ideale classico, qualcosa di non perfettamente definito entro cui tra l'altro lui si nasconde perché che cosa dice nel testo? Lui guardando questa statua dimentica ogni altra cosa, si eleva al di sopra di se stesso, una realtà parallela, una realtà fuori dalla realtà storica. Guardare questa statua lo aiuta a immedesimarsi e a fuggire in un'altra realtà e quindi il tema dell'evasione tipico del romanticismo e poi questa sorta di venerazione di qualcosa che ha più un sentimento di mistico, no? Non è soltanto dire che la statua è bella, c'è attrazione eccetera, no, c'è di più, lui utilizza la parola venerazione, utilizza la parola elevarsi al di sopra di me stesso e quindi si figura addirittura nelle terre dove Apollo, che è un dio mitologico, era solito camminare, ok? quindi c'è questa sorta di struggente nostalgia anche di un momento che non si può vivere, di una vita che non si può attuare e in cui ci si vuole rifugiare e che è tipica della visione romantica successiva e che è anticipata già dal Winkelmann, è proprio una una disposizione dell'animo nella venerazione nel classicismo solito che eravamo soliti leggere nel 1500 non si era mai visto una venerazione, un trasporto emotivo così forte nei confronti della classicità che nasconde anche una certa carica erotica dietro e e quindi in questo senso in questo sentimento indefinito di venerazione nei confronti di questa bellezza e ci si rifà a tematiche che sono sia neoclassiche che preromantiche vedete quindi come le due etichette si adattano allo stesso autore addirittura allo stesso testo perché tutte e due vivono qui dentro neoclassico l'equilibrio l'armonia la Grecia il mito e la perfezione della classicità e allo stesso tempo questa sorta di venerazione mistica e nostalgica questa volersi nascondere dalla realtà storica presente e vivere in un mondo di evasione evadere dalla realtà di evasione